La domanda è filosofica. È possibile che se il mercato scende ci sia un'azione che ci fa sognare a rialzo? Devo dire che ci vogliono anni per maturare una risposta. Dipende. Nel senso che quando il mercato si muove all'unisono per simpatia e tutti i titoli vanno a rialzo è evidente che è come lanciare le freccette contro un bersaglio dove il centro è molto più grande di tutti gli altri bersagli. Però voglio dire che la realtà è che la forza relativa ha questo prodigio. Per cui quando i mercati vanno in orizzontale o scendono, se c'è un'azione che esplode a rialzo lo fa in maniera pesante. E questo per due ragioni. Primo perché ci sono ragioni fondamentali che fanno sì che quell'azione possa battere l'indice e quindi il pessimismo generale. Quindi devono essere ragioni veramente forti. E la seconda motivazione è che in tutti i momentum trader ovviamente si concentrano su quella manciata di titoli su cui è possibile operare long, a rialzo, senza pagare i costi della speculazione short. o avere le tasche profonde che hanno gli istituzionali per cui sostanzialmente non hanno dei costi eccessivi per lo short. Ecco perché quando i mercati entrano nella pausa estiva, che è tipicamente una pausa laterale, si scatena la caccia al titolino, la festa del titolino, perché sostanzialmente ci sono pochi titoli su cui si concentrano domanda e attenzione e è bello grigliarseli. Quindi ci stiamo avvicinando verso la stagione estiva, ci sono diversi titoli che stanno per volare a rialzo e oggi ve ne voglio presentare uno che mi sta particolarmente a cuore. Ovviamente io sono Emilio Tomasini, sono l'editore dell'indipendente di Borsa e se volete saperne di più sulle mie metodologie potete acquistare questo libello pubblicato dalla Foschi Editore in cui spiego quelle che sono, a mio avviso, le migliori 6 strategie di trading che esistono nel globo terraqueo. Detto questo, ovviamente se volete comprarlo dovete cliccare qui sopra o qui sotto, a destra o a sinistra, di solito c'è un link e per il resto vi svelerò la azione magica. State con me. Eccola qua, la nostra azione Antares Vision, mettiamola sul mensile perché ovviamente ci permette di capire un po' che stiamo comprando un'azione che sostanzialmente è stata collocata a 11.50, persa poco, ed è scivolata fino a un livello di 1.35, quindi sostanzialmente ha perso il 90% del valore. Poi magicamente, adesso la mettiamo sul weekly, magicamente ha iniziato ad accumulare volumi e a disegnare quello che è un vero e proprio bottom up per i cultori di questa figura. Mettiamo di nuovo sul daily perché possiamo seguire la bellezza di questo movimento che ovviamente analisti tecnici arguti potranno trovare mille ragioni, potranno vedere teste e spalle doppi minimi, qui c'è un doppio minimo, vedete, puffete, poi va su. Triangoli, rettangoli, il diavolo che spunta con le corna, il fumo dell'inferno, è stato di fatto però che il trend palesemente sta girando. Allora, leggo da Bloomberg che cos'è Antares Vision, Antares Vision è una società ovviamente italiana che ha sede a Brescia e si occupa di fornire soluzioni di controllo, sistemi di controllo e di tracciabilità. Designing, manufacturing, installing and maintaining critical systems for the most demanding customers in the world. Lavora in segmenti geografici che sono l'Italia, l'Europa, il Nord e Sud America, l'Asia, l'Oceania, l'Africa e il Medio Oriente, praticamente ovunque. e ha dei dati di tipo fondamentale che diciamo non sono bombastici, non sono bombastici e infatti l'Earning Prescia ha tre anni medio composto senza non recurring investment, è meno 21. Questo però ovviamente bisogna andare a scomporlo, a vederlo come è l'andamento anno per anno, perché ovviamente una media a tre anni dice poco e per esempio se la vediamo la crescita del fatturato a tre anni medio composto è del 14%, l'Ebidda dello 0,7%, il patrimonio a tre anni è del 30% ed è una società che per esempio, cosa che piace molto agli investitori, è un price earning di 34% che è sostanzialmente nella fascia alta sia dell'industria che il suo storico. Questo ce la dice lunga sul fatto che sostanzialmente sia una società che in termini di value ha un valore di 15%, ovviamente è possibile che sia una trappola del valore, cioè una value trap, perché diciamo se il margine operativo è 6,92 diciamo il margine netto è del 3,66 ma il free cash flow margin è del meno 9. Quindi diciamo che è una società da prendere con le mollette ma che è la tipica società in cui sostanzialmente è possibile un turnaround, cioè nel senso che stiamo parlando di questa fascia di oscillazione laterale che va sostanzialmente in corso da due anni a questa parte, un anno e mezzo, due anni a questa parte, in due anni e mezzo una società come questa che ha avuto un revenue nel 2016 di 59 milioni e siamo passati ad avere nel 2022 un revenue di 224 milioni e voi capite che è possibile che ci riservi delle sorprese, tanto più che il ROIC che è altamente positivo nel 2016 e nel 2018 è sceso diciamo a cavallo dello zero e quindi è possibile che il mercato stia anticipando un ritorno del return on invested capital positivo. Io sono abbastanza fiducioso, ovviamente è un'azienda che non scambia molto sul mercato perché non è sicuramente una blue chips quindi me ne sto lontano però diciamo che potrebbe essere una società su cui vale la pena puntare per una chip soprattutto nel caso in cui questi prezzi continuano a crescere quindi diciamo che qualora noi avessimo una fuoriuscita da questo canale cosa che per il momento si sta materializzando ma non si è ancora consolidata con il superamento del massimo, di questo massimo di, adesso ve lo dico, per essere giusto precisi quindi se noi avessimo una chiusura a fine settimana superiore a questo massimo di, adesso un attimo andiamo a prendere data window a un massimo di 3,24,5 ecco diciamo che si potrebbe entrare in modalità buy con un setup il setup questo sarebbe insomma abbastanza bello quindi è un'azione che vi consiglio di monitorare perché sia dal lato fondamentale è possibile avere delle sorprese sia dal lato tecnico e il mercato ci sta dicendo che l'indice di gradimento è in aumento poi ovviamente una discesa dei prezzi di questo tipo a sasso di solito è antesignana poi di una salita a missile in questa area stiamo a vedere la scommessa vale la pena di prenderla probabilmente per chi ha un cuore forte sicuramente non per i cardiopatici cardiopatici si devono astenere vi ricordo ancora che se volete capire come faccio le mie analisi c'è questo libro che vedete nel quadratino qui sotto e trovate qui a fianco tutti i necessari link alla prossima